Sulla sciagurata gestione del super bonus 110% voluta dal governo Conte 1 e 2 e prorogata anche immeritatamente dal Draghi, il ministro all'economia Giorgetti ha fatto calare la scura definitiva cancellando la possibilità di avere lo sconto in fattura che era il sistema per cui anche coloro che non avevano le risorse per potersi pagare la ristrutturazione nell'ambito della competenza fiscale potevano accedere al bonus e con questa cancellazione che sarebbe stata in vigore fino al dicembre 2025 sul settore edile e soprattutto su tanti anche proprietari di immobili nei condomini e di periferia cala una vera e propria mannaia. Ne parliamo in questa puntata dello schiacciassassi ma prima vi ricordo di mettere il mi piace e di condividere i contenuti con i vostri conoscenti. A tra poco dopo la sigla. Cari amici vicini lontani bentornati alla nuova puntata dello schiacciassassi da parte di Stefano Elina con una voce un pochettino corrotta da questo sbalzo repentino di temperatura che ha fatto riemergere una bronchita, perdonatemi. Il super bonus 110% così come è stato concepito dalle fervie di mente grilline del Giuseppe Conti 1, 2 e soprattutto non fermato dal Draghi il ministro all'economia Giorgetti ha fatto calare la mannaia definitiva perché al febbraio 2024 la quota di contributi e soprattutto di debito pubblico perché il super bonus di fatto è debito pubblico belle buono ha raggiunto già quota 147 miliardi e con i cantieri che sono ancora avviati e che dovranno terminare entro giugno prossimo è probabile che si vadano a tagliare la quota nefasta dei 200 miliardi. E tutti possono immaginare nel loro piccolo cosa si sarebbe potuto fare con 200 miliardi di spesa pubblica a debito perché il super bonus è stato fatto a debito. Se questi fossero stati utilizzati invece che per ristrutturare sette castelli, villette uni familiari, un intero villaggio vacanze in Trentino e tante case di persone che avevano la capacità economica di sostenerla e di farsela in proprio a differenza di tanti che invece abitano nei condomini e magari abitano in quelle case popolari di periferia che avrebbero quelle sì dannatamente bisogno di una riqualificazione strutturale e anche energetica. Ebbene per tutti quelli non c'è stato praticamente verso anzi per chi invece è con un condominio che è a metà dell'opera perché da quando alla fine di dicembre c'è stato anche il cambio di regime dal 110% al 70% di contribuzione, tanti che non avevano completato ancora i lavori si sono trovati di punto in bianco della necessità di passare dai lavori di ristrutturazione a gratis come aveva preparato Conte a dover mettere sul piatto almeno un 30-35% di somma per poter concludere i lavori. E se costoro non hanno la disponibilità economica sono problemi perché potrebbe generare contenziosi economiche con imprese che legittimamente pretendono di essere saldate per il lavoro fatto anche se è stata tolta la mannaia dell'esecuzione forzata da parte dell'ente fiscale che poteva nella prima stesura originale chiedere indietro tutte le cifre anticipate nel caso di mancata conclusione dei lavori. Siamo sempre in un'Italia per cui le norme vengono fatte a uzzolo senza avere una previsione concreta e soprattutto credibile di quelle che saranno le ricadute sull'economia e sul bilancio pubblico perché non dimentichiamoci che il superbonus è partito con una tendenza di costare 30 miliardi in tre anni però in questo arco di tempo i 30 miliardi si sono moltiplicati per almeno 4 e c'è la possibilità che si moltiplicano addirittura per 6 o per 7 volte. Il che è facile fare un po' il conto di come la finanza pubblica venga scassata da decisioni che non hanno né capo né coda e sono state fatte solamente così come il reddito di cittadinanza concentrato quasi esclusivamente nelle regioni del sud Italia come un gigantesco vuoto di scambio. Io ti pago per avere il consenso perché ti ristrutturo a gratis la casa perché ti do il reddito di cittadinanza per stare a casa senza lavorare e quant'altro. E da quando lo stesso reddito di cittadinanza è stato pesantemente depotenziato dal governo Meloni guarda caso sono tornati in auge i lavori a termine i lavori del comparto stagionali che prima registravano una quota zero di disponibilità a lavorare. Uno dei miracoli dell'avere chiassato il reddito di cittadinanza grillino. Ma ora cosa cambia con il discorso dell'avere tolto via il sconto in fattura che era diciamo il meccanismo perverso per cui uno poteva ristrutturarsi un immobile senza dover anticipare di fatto alcunché e che soprattutto con una quota del 110% quando sarebbe stato molto più logico e sarebbe stato già grasso che cola avere un contributo del 50-60% così come era per altri interventi di riqualificazione energetica pensiamo alla sostituzione del caldaio fatta al 65% è ovvio che con 110% nessuno è andato a controllare sulla qualità dei lavori effettuati e soprattutto sulla congruità dei prezzi che cosa che ha comportato anche una corsa al rialzo delle quotazioni di materiali isolanti colle materiali dei ponteggi e quant'altro e ciò ha anche influito negativamente sull'inflazione. Se si continua a prendere decisioni a uzzolo senza avere una contezza di quello che saranno gli scenari e che causeranno questa decisione ovviamente non andiamo da nessuna parte però il problema adesso attuale è che senza la possibilità di fare lo sconto in fattura per la ristqualificazione delle immobili i lavori che si vanno a fare potranno essere recuperati con il meccanismo normale del recupero fiscale in dieci anni e chi non ha abbastanza margine finanziario pensiamo semplicemente un pensionato o un lavoratore che guadagna 1500-2000 euro al mese netti è difficile che possa avere all'interno di un periodo di dieci anni quella competenza fiscale per poter compensare la spesa che andrà a sostenere e da questo punto di vista probabilmente ci sarà un'ulteriore involuzione di tutto quello che è il sistema connesso con l'edilizia con una frenata più o meno decisa di tutto il settore cosa che non sarebbe nemmeno nell'interesse del governo perché potrebbe generare una forte ricaduta su quello che è la chiusura di imprese e soprattutto sull'occupazione del settore però è indubbio che una soluzione deve essere presa e Giorgetti da questo punto di vista ha dimostrato coerenza e soprattutto coraggio nel prendere nel tagliare il cordone umbilicale della manomorta grillina e da questo punto di vista di fronte a una spesa così elevata e che di fatto è rimasta improduttiva perché ha ristrutturato sia no 300 o 350 mila unità nel patrimonio nazionale a fronte di milioni di abitazioni dimostra anche come la scelta dell'Unione Europea di riqualificare tutto il patrimonio mobiliare entro il 2050 sarà un vero bagno di sangue soprattutto sarà un bagno di sangue se non verranno accompagnati adeguati finanziamenti per poter coprire almeno in parte perché il tutto abbiamo già visto cosa succede con il 110 per cento perché la stragrande maggioranza di coloro che abitano un appartamento di periferia magari preso con riscatto magari con sacrifici di un mutuo trendannale è molto difficile che abbia quei 25 30 mila forse anche 50 mila euro a seconda delle dimensioni a seconda di come è messo l'edificio per poter adeguare un mobile in classe G che è la peggiore e portarlo alla classe D o meglio ancora nella classe B ecco da questo punto di vista sarà un bagno di sangue e soprattutto vedremo un impoverimento ancora più generalizzato di quella che è la classe media quella che è riuscita a comprarsi con mille sacrifici un'abitazione e che ora con le nuove norme della riqualificazione energetica lo vedrà svalutato sulle quotazioni del mercato e nel caso di vendita e con 50 60 mila euro in meno di valutazione di un immobile anche la capacità di spesa delle famiglie si riverberà negativamente così come si è già riverberata negli ultimi mesi dell'anno staremo a vedere cosa succederà cari amici vicini e lontani anche questa puntata dello schiacciassi va a terminare prima di salutare vi ricordo di mettere il mi piace di condividere i contenuti con i vostri amici se poi volete approfondire il tema sul nordeste quotidiano trovate sicuramente molti più dati che non di quelli che è possibile dare in questo breve spazio intanto da parte di Stefano e Elena un saluto e un arrivederci alla prossima puntata sempre che lo vogliate ciao 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 ciao